Il liberalismo come metodo, il titolo del libro di cui ora ci parla Letizia Caffiero. Una visione diversa del liberalismo collocato nella storia, nella realtà, aggiornato continuamente. Il liberalismo come metodo, il titolo del volume di Ernesto Paolozzi, presentato a Napoli, con l'autore Massimo Locicero, docente di Economia e la Sapienza di Roma, e Antonello Petrillo, docente di Sociologia all'Università Sororsola Benincasa di Napoli. Il liberalismo non può essere solo il liberismo economico, o solo la dottrina della distensione dei poteri, o altre dottrine di questo tipo, ma deve essere una visione del mondo, che si ispira largamente all'ideale della libertà, ma poi concretamente sceglie nella storia. Il liberalismo è sempre metodo liberale, scrive l'autore, non una tecnica o soltanto una tecnica. È sempre un'interpretazione della realtà attraverso il principio della libertà e si concretizza in un'autore.